Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale Adesso andiamo a fare la carriera con l'Atalanta Simuliamo questa cosa solo, speriamo di vincere perché è uno scontro diretto Se vinciamo siamo noi sopra di loro Grande, Zapata e Muriel, i due attaccati 2-1 E ora andiamo in partita contro lo Shaq Tardonez Siamo primi Bello Ok, siamo primi Perché Abbiamo fatto più gol Bene Quindi Manchester City, Shaq Tardonez è finita 0-0 Andiamo a fare questa partita Partecipiamo nella conferenza stampa E vediamo un po' Cosa gli dice Se partiti male Riuscite a ottenere la posta Prima volta oggi Allora Sarà una partita difficile Ci attendiamo una partita sicuramente complicata Siamo allenati bene Siamo certi che giocheremo il nostro miglior calcio La luce Quella era l'uomo Dobbiamo giocare meglio Abbiamo una tattica La squadra ha fatto pasifica Nell'ultima partita Cosa c'è che non va? È colpa mia Andiamoci la colpa a noi E ora Andiamo In partita Che cosa? Che cosa? Che perché? Qua è proprio Che è? Caldara No Cavolo Mettiamo Questo qui No Caldara Ottimo Palomino C'è Palomino C'è Palomino Mi dispiace Dai perché Ora andiamo in partita Contro lo Shakhtar Donetsk Andiamo a di vincerla Dai Aiuto Dai No No Sei Gioiamo in casa Nemmeno giochiamo in casa La prima partita L'abbiamo pareggiata Questa qui Speriamo di vincerla Ultimo Ok L'abbiamo Abbiamo un calore dei tifosi addosso Non possiamo perdere È l'inizio dell'Atalanta Shakhtar Donetsk Dai Dobbiamo giocarla bene Questa Questa è burro Vai per De Lune Crescito De Lune Attenzione No Subito Stavamo attaccando bene Tyson Tenti Tenti a Tyson Dodo 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 Attenti a Dodo Dodo la mette al centro Per Morale Subito Subito Dopo sei minuti Vabbè dai Abbiamo ancora una partita davanti Dai Ce la possiamo fare Dai dai Attenzione Attenzione a Toloi Attenzione a Toloi Con la mette al centro Bravo De Lune Papu Gomez Una per Dupan Dietro Guarda quello che scattava No Attenzione a Toloi Attenzione a Toloi Questa è Brava Grazie a Toloi Vai Gomez Vai Gomez Vai Gomez No Piato Dai Siamo al 22esimo No 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 Vai Attenzione a Toloi Attenzione a Toloi No Prendilo Bravo Bravo Gallini Vai Buonaventura Dovan Vai per Pabu Vai Pabu Vai Pabu Vai Pabu Vai Pabu Passare a Bara Deborra Mezzo Per Morer No Ancora 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 Eh ancora Dai Ancora Buon Ancora Buon Ancora Buon Subiti Mezzo No No Dovan Dove La presa Qui è Attenzione a Morales Qua ci ha segnati Ok Prendi la Ok Terone Dovan Vai Muriel Dovan Volati là Che ha te porro Ha te porro Ha te porro Dai Guarda Piato Qua che ha preso E se l'è in mezzo Pabu Una Polomino Sì Piato Vai Dero Vai Dero Matvienko Matvienko Come si chiama Ma chi è Dodo Dodo Tiro al centro Bravo Trifiti Fai Buonaventura Deglia Attenti Acnopal Chi è Questo No 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 Attenzione Ok Fine Primo tempo Stiamo giocando Bene e male Stiamo giocando Se è bene E male E una vita di partita Due di l'ottorità Stanno Stiamo Un pareggio Per le statistiche Che ci stanno Un pareggio Ci sta Dai Ma l'ha fatto Ma l'ha fatto Dai Vedi l'altro Lui Ok Anche se non è un sistema Nostra Papu Rinnovate i bordi Rinnovate Papu Ok Buona avventura Di là Buona per tomate La centra Per muri Ehi Noi da Non è fuori gioco Mi sa Di là Ok Non è fuori gioco Attenzione Questo qua Tyson Tiffany Go Ismaili Morales Tenti a morare Tenti Tenti Attenzione Vai Collini Ok Che vai da Mice Vai da Mice Vai da Mice Vai da Mice Vai Corri Corri Attenzione Guarda questo Come corre Guarda questo Come la metti In mezzo Attenti Ok Ok vai Eccolo Eccolo Papu Spianta Devi tirare Dai Prendila Pasala Dietro Biglio Jack Tamizze No Taison Morales Tyson Tyson Taison Bravo De burro Passala Di là Ok Vai papu Di tacco Buona di nuovo Di tacco Mantieni al centro Al centro Al centro Per Che è quello Da Mice Di tacco Corri Dai C'è la messa fuori Quello E' la duvan 77 77 Ma vada a mezzo Ma vada a mezzo Noo Dai Cono planta qua Attenzione 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 Non ci credo Non ci credo C'è Non è proprio possibile Ciao Per Sono Sue Mario Facce Per su A Parlando ben Più C'è C'è Vengo male Adesso insegniamo Guarda ma la fortuna Vabbè è finita Vabbè andiamo in conferenza stampa e ci andiamo a mettere la faccia Se mi arriva una domanda su Gollini Madonna Manchester City 2-0 Quando abbiamo una giaca Ma dobbiamo vincere con il Manchester City Se mi è finita Eh sì Se vinciamo Se le è piaciuto come mezzo Mi ha dato tutti i complimenti Abbiamo cosa che non ho finito Allora 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 cosa che non ho finito Lasciate un commento Mi piace bella Allora cosa che non ho finito